Benvenuti amici nel canale allevamento materiale di Raffaele Sposito oggi parleremo di ondulati inglesi ovvero ondulati di forma e posizione le mie nuove nuentri subito dopo la intro buongiorno amici oggi vi volevo presentare delle nuventri ondulati di forma e posizione provenienti dal Belgio bella taglia ieri ho avuto l'occasione di prendere due coppie e vediamo se riusciamo a riprodurli anche loro questa è la prima coppietta hanno una bella taglia come dicevo provengono dal Belgio un anellino belgo e vediamo cosa ci porteranno di buono maschietto in primo piano femminuccia dietro ovviamente il piumaggio è un po' scomposto ma qua con qualche bagnetto torneranno come noi ho preso l'unico errore forse che ho preso due coppie grigie quindi a meno che non portano mutazioni avrò solo ed esclusivamente i fighi grigi e vabbè ma non credo che non portano mutazioni ormai gli ondulati portano di tutto quindi non credo siano non credo siano dei grigi puri quindi speriamo di riuscirle a riprodurre i ondulati inglesi non ne avevo mai presi questa è la mia prima esperienza con loro e vediamo come andrà a finire una femmina un po' più timida resta sempre dietro il maschietto invece no ragazzi che dite se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale e buona domenica e ci vediamo allo prossimo video ciao belli se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video amici ciao ciao